Due mostre, tre convegni, la presentazione di un libro, stiamo parlando della quarta settimana della cultura a Montesilvano da lunedì 4 luglio fino a sabato 9, tanti gli eventi. Tanti gli eventi, tanti personaggi che ci porteranno le loro esperienze, i loro racconti, una cultura quindi che si attacca alla capacità delle persone di raccontarci la loro vita e anche una serie di, oltre i convegni che dicevi, di mostre, di spettacoli che in quella location fantastica possono essere allestiti da Corrado Tedeschi che farà L'uomo dal fiore in bocca in una versione molto particolare da anche un mente televisivo che sembra all'inizio e poi diventa invece entriamo nello spirito pirandelliano una lettura molto particolare a Franca Valeri, la grandissima Franca Valeri che si racconterà a Pino Strabioli e ci darà proprio delle chicche interpretative di quella che è stata la sua straordinaria carriera di questa novantenne a Valeria Valeri che farà un Oscar e la Rosa a Barbara Bovoli che qui è molto conosciuta che farà questo Luna il giorno 6 per poi pensare all'incontro che abbiamo con Ronella Muti che solitamente non va in queste manifestazioni perché è molto schiva e che ha avuto un grandissimo successo teatrale come attrice proprio dimostrandosi oltre che una diva anche una grandissima attrice e verrà qui a Montesilvano il giorno 6 si racconta anche lei a Pino Strabioli unitamente a direi anche una convegnistica con Marcello Veneziani che ci darà una panoramica insomma su questa Italia nell'ambito dei 150 anni prima dello spettacolo sul brigantaggio proposto qui al Montesilvano Colle e soprattutto martedì 5 c'è il Montesilvanese Doc se una virgolette Dean Martin il Dean Martin con Duccio che c'è appunto da Dario Salvatori a Luciano Dorisio, a Gilda Giuliani insomma è una grande giornata che si dedica come sempre a Dean Martin e a quelli che veramente grandiosamente lo rappresentano e che quel giorno faranno rivivere come lo scorso anno ad una grandissima platea con le loro situazioni questo grande mito di Dean Martin e questo premio Dezzamore, Vita Bella e Arrostella e Arrostella